signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale la settimana scorsa nelle fondamentali dungeon abbiamo parlato del primo atto della struttura narrativa in tre atti e abbiamo visto come è meglio iniziare una storia quindi questa settimana nell'arte del masteraggio andiamo a parlare di un uno degli attrezzi della vostra cassetta degli attrezzi del master che vi serve specificatamente per rendere migliore l'inizio di una storia questa settimana parliamo del gancio narrativo un gancio narrativo è fondamentalmente un espediente che il master può utilizzare quando vuole catturare l'interesse e la curiosità dei giocatori per farli immergere di più nel racconto è chiamato gancio appunto perché la sua funzione è quella di afferrare i giocatori e trascinarli verso la storia o almeno verso le parti più interessanti della storia questo è il motivo per cui normalmente il gancio narrativo è utilizzato all'inizio di una quest o comunque segnala l'inizio di un arco narrativo di un filone di racconto che proseguirà fino a quando non ci sarà un altro gancio che trascinerà i giocatori verso qualcos'altro creare un buon gancio narrativo per catapultare i giocatori all'interno del racconto è indispensabile per la buona riuscita di una quest ed è anche più facile di quello che si potrebbe essere propensi a credere fondamentalmente il gancio è un qualche tipo di descrizione o qualche tipo di elemento del gioco che serva a due principi fondamentali deve suscitare delle domande e quindi la curiosità dei giocatori e deve giustificare l'investimento da parte dei giocatori diciamo che la vostra quest è un giallo gli avventurieri dovranno indagare su una serie di omicidi raccogliere gli indizi e alla fine smascherare il colpevole la quest potrebbe iniziare con gli eroi che vengono chiamati al commissario della polizia che riassume loro brevemente la situazione dicendo che ci sono stati già un paio di omicidi e un testimone dice aver visto qualcuno che indossava una maschera allontanarsi dalla scena e poi li manda a indagare sul caso ma questo probabilmente sarebbe il modo più banale per iniziare il racconto sarebbe preferibile dire che mentre gli eroi stanno tornando alla loro base a tardanotte sentono un urlo provenire da un vicolo quando vanno a controllare trovano un uomo con una strana maschera tribale un pugnale insanguinato chino su una vittima solo in seguito quando i personaggi avranno già cominciato a indagare verrà introdotta la polizia e verranno informati che quello non è un caso isolato ma è un omicidio che fa parte di una serie far trovare i personaggi faccia a faccia con l'assassino solleva già una serie di domande chi è quest'uomo perché sta ammazzando una persona perché indossa una maschera tribale senza contare che adesso i personaggi e di conseguenza i loro giocatori sono personalmente coinvolti nella situazione sono dei testimoni e il fatto di essersi trovati l'assassino davanti li ha messi personalmente in pericolo questo è quello che si intende per giustificare l'investimento adesso che i giocatori si sentono personalmente coinvolti saranno anche solo per la curiosità molto più disposti a investire il loro tempo i loro sforzi per andare avanti con la quest senza contare che loro hanno già un investimento emotivo nei confronti dei loro personaggi e il fatto che questi siano stati messi in pericolo perché l'assassino sa che lo hanno visto che sono dei testimoni mette a rischio anche loro un gancio narrativo ben fatto deve fare appunto questo fare in modo che i giocatori sviluppino un interesse una curiosità alta e il modo migliore per farlo è fare in modo che l'interesse sia per loro personale adesso i giocatori stessi hanno un personale interesse nel mondo di gioco e nel mandare avanti la storia tenetelo bene a mente prima di lamentarvi che ah ma i miei giocatori sono più interessati a farsi fatti loro che alla quest che ho organizzato ah ma i giocatori non riescono a seguire la storia perché sono stupidi valutate che se non avete inserito un gancio decente non avete mai cercato di coinvolgere i giocatori nella storia nessuno può pretendere che la gente si interessi a quello che dice semplicemente perché lui è il master e ha detto che quello che dice è interessante fate però attenzione che inserire ganci narrativi all'interno delle descrizioni è indispensabile per attirare i giocatori verso la storia ma se le descrizioni non sono fatte adeguatamente potrebbe verificarsi anche la situazione opposta può capitare infatti di introdurre degli elementi descrittivi che catturino l'attenzione dei giocatori ma che non siano stati previsti come ganci narrativi e che quindi non conducano da nessuna parte molto spesso questo è dovuto da un eroe da parte del master un abuso di descrizione da parte del master se spendete dieci minuti a descrivere il castello in lontananza è ovvio che i giocatori vorranno andare a vedere cosa c'è in quel castello in lontananza e se una volta arrivati lì non c'è assolutamente nulla interessante nel castello in lontananza i giocatori altrettanto ovviamente resteranno molto delusi e adirati nei vostri confronti non avete dato profondità al gioco o la descrizione del paesaggio avete solo sprecato il tempo e l'intero tavolo è però comunque possibile che il master non abbia colpa e che siano i giocatori essere stati attirati da qualche elemento che è stato descritto a cui hanno deciso di attribuire molto più valore di quello che il master aveva previsto in questo caso voi come master siete decisamente nelle curve se vi succede questo fondamentalmente avete solo tre modi per uscirne o dite esplicitamente ai giocatori che si stanno sbagliando quel barbone che ci spia dal vicolo potrebbe essere una spia mandata al nostro nemico no è solo un barbone ce l'ho messo per farvi capire che questa è la zona degradata della città questa probabilmente è la soluzione più veloce ma è anche quella che causa più frustrazione a nessuno piace sentirsi dire che la propria brillante intuizione in realtà è sbagliata potete fare in modo che l'elemento descrittivo perda importanza alla narrazione sempre restando all'interno della narrazione stessa magari facendo eseguire delle prove ai personaggi riguardo quello specifico elemento quel barbone che ci spia dal vicolo potrebbe essere una spia mandata al nostro nemico si guarda potrebbe però il tuo personaggio sa che state attraversando la zona più degradata della città ci sono barboni dovunque cioè sarebbe strano se non ci fosse nella maggior parte dei casi questa è la soluzione migliore ma se ve la sentite e se siete ragionevolmente sicuri che poi non vi scombinerà i piani per eventi successivi della campagna potete anche decidere di stare al gioco e seguire la proposta dei giocatori anche se non vi siete preparati per quello quel barbone che ci spia dal vicolo potrebbe essere una spia mandata dal nostro nemico beh quando il barbone vede che lo sta indicando il resto del gruppo fa una faccia spaventata e poi comincia a scappare proprio come se fosse una spia che fosse stata scoperta questa è sicuramente la cosa più soddisfacente per i giocatori e sarebbe quasi sempre la cosa migliore da fare dovete però essere sicuri che sia possibile in quel momento inserire questa deviazione nella quest o anche magari un piccolo arco narrativo dedicato alla scena e che abbiate poi il tempo tra questa sessione e magari le sezioni successive di rivedere un attimo la vostra storia e risistemare nel caso la deviazione abbia portato a qualche scossone qualche terremoto narrativo più avanti se però sapete di avere il tempo e che non causerà dei ribaltamenti improbabili nella campagna il lavoro in più che vi comporta è comunque anch'iamente compensato dalla gratificazione che causerete i vostri giocatori in conclusione voglio soltanto ribadire quanto i ganci narrativi siano importanti per fare in modo che i giocatori siano coinvolti all'interno del racconto a costo di risultare pedante creare l'interesse dei giocatori verso il racconto e mantenere sempre questo interesse alto e costante durante tutta la durata della quest è un'abilità fondamentale per il master tanto quanto la conoscenza del regolamento tanto quanto l'abilità di scrivere una storia andare a sconfiggere il boss finale della quest semplicemente perché qualcuno a un certo punto lo ha indicato dicendo quello il vostro nemico non è qualcosa di interessante per i giocatori sicuramente molto meno interessante anche solo di una scena in cui parlano al bar con un png che a loro sta particolarmente simpatico se volete che i vostri giocatori si appassionino la vostra quest fate in modo che sia la quest a essere appassionante per loro il gancio narrativo è uno dei metodi che vi facilita a coinvolgere i giocatori come lo sono molti altri metodi che abbiamo visto nella serie dell'arte del masteraggio l'impegno però dovete mettercelo voi diciamo che per questo video è tutto prima che io parta in un rant di 20 minuti sulla filosofia del masteraggio l'unica volta che sono riuscito a tenere un video dentro tempi decenti come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete le vostre domande in un commento qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi schiacciate il tasto della campanella io sono il master CAE noi ci vediamo nei prossimi video